Siamo qui con Lorenzo Alfieri, country head JP Morgan Asset Management, al quale chiediamo dopo un 2019 abbastanza entusiasmante sui mercati, cosa ci aspetta in questo 2020? Siamo entrati nel 2020 sicuramente con una marcia molto interessante, non ci dimentichiamo che le principali economie sembrano trovare una fase di rimbalzo, mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti e all'Europa quindi inizialmente possiamo dire che i mercati stavano interpretando ovviamente questa fase di rialzo in modo positivo, ecco ovviamente l'imprevisto del coronavirus sembra aver ovviamente cambiato in parte le dinamiche ma noi rimaniamo tutto sommato almeno per il primo semestre positivo, pensiamo che ovviamente ci sia la possibilità di un rimbalzo, le politiche monetarie rimarranno espansive e in uno scenario di questo genere valutiamo che i mercati emergenti sia obbligazionari che azionari possono essere effettivamente delle aree di investimento particolarmente interessanti, paesi come il Brasile, la Turchia, l'Indonesia sembrano avere la possibilità di una riconversione e quindi di una crescita tutto sommato positiva Quale consiglio possiamo dare ai nostri consulenti finanziari, o meglio quale consiglio da JP Morgan? Sicuramente come dicevo prima, i mercati finanziari sono un'area di investimento ma come ho detto all'inizio ci sono delle complessità, ovviamente il coronavirus è uno ma non ci dimentichiamo anche alcuni elementi di difficoltà geopolitica, le elezioni nella seconda parte dell'anno quindi la volatilità rimarrà molto alta, per questo crediamo che sia necessario innanzitutto diversificare molto e inevitabilmente avvicinarsi al mondo degli investimenti attraverso strumenti come i fondi l'unico modo effettivamente per far gestire in modo diversificato i propri patrimoni ai professionisti del risparmio Grazie mille Grazie a voi